Allora Droga a 26 persone arrestate coinvolte anche Mazzara, Marsala e Castellammare Spese pazze a Mars, rinviati a giudizio Giulia Adamo e Livio Marrocco Condannato un mazzarese di 42 anni per una rapina a partanna Nuova ordinanza di crocetta sui rifiuti Pubblicato nell'albo pretorio del comune il bando per l'assegnazione di borse di studio Guerra distanza tra il presidente del Mazzara Calcio e i giocatori Benvenuti a questa nuova edizione del TG8 Informazione grave incidente ieri sera in via Trapani a Marsala Restare feriti due giovani che si trovavano a bordo di uno scooter Che si è scontrato con un'auto, una Toyota Yaris L'incidente è avvenuto alle 20 circa all'incrocio con via favorita Lo scooter con a bordo i due ragazzi per una dinamica ancora da accertare Si è scontrato con l'auto I due giovani sono rimasti feriti ma fortunatamente non in maniera grave Sul posto infatti sono arrivate due ambulanze che li hanno soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala Il leso è il conducente dell'auto Sul posto sono intervenuti oltre ai soccorsi del 118 il personale della polizia di Marsala Stava rubando in via Bonsignore I carabinieri inseguono e arrestano un ventenne Si tratta di Ahmed Khaldi classe 96 Di origine tunisina ma cittadino italiano e stabilmente dimorante a Castelvetrano Già noto alle forze dell'ordine per precedenti controlli di polizia a suo carico Il personale fatto convergere sul posto è riuscito a recuperare tutti gli oggetti asportati Un pc portatile, dei lettori di codici a barre, alcuni accessori informatici E il registratore di cassa dell'esercizio commerciale preso di mira Che al suo interno custodiva ancora tutto l'incasso ammontante a circa 500 euro L'udienza innanzi al GIP si è tenuta Marsala e ha imposto all'uomo la misura dell'obbligo di firma Presso la locale caserma dei carabinieri Fiumi di droga fra la Sicilia e la Campania A 26 le persone arrestate che rifornivano anche diverse piazze della Sicilia occidentale Come Mazzara, Marsala e Castellammare del Golfo Vediamo Maxi traffico di droga tra la Sicilia e la Campania Sono così scattate le manette per 26 persone 20 palermitani e 6 campani Che avrebbero immesso la droga nel mercato dello spaccio di Palermo E di altre zone della Sicilia occidentale Come Mazzara del Vallo, Marsala, Alcamo e Castellammare del Golfo Interessato anche il territorio di Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento Cocaina, eroina, hashish e marijuana Questo quanto sequestrato per un totale di 500 kg di hashish Del valore di circa 3,5 milioni di euro Un chilo di cocaina, uno di marijuana e uno di eroina Il dirigente della squadra mobile di Palermo, Rodolfo Ruperti, ha dichiarato Quello che siamo riusciti a sequestrare è solo una minima parte della droga Che è circolata attraverso questo gruppo criminale Con cifre di droga e denaro da capogiro Durante le perquisizioni sarebbero stati anche scoperti Fiancheggiatori e spacciatori al dettaglio A un esponente di spicco dell'organizzazione Sono stati sequestrati i beni per circa un milione di euro Tra cui una lussuosa villa alle porte di Palermo Nell'operazione sono stati impegnati un centinaio di uomini Della squadra mobile di Palermo Le indagini sono state coadiuvate dagli investigatori della sezione antidroga Da unità cinofile, da pattuglie del reparto prevenzione crimine Con l'ausilio di investigatori delle questure di Agrigento, Messina, Trapani e Vicenza La Polizia di Stato ha eseguito alle prime luci dell'alba Le ordinanze di custodia cautelare Emesse dal GIP del Tribunale di Palermo Su richiesta della Procura della Repubblica Direzione distrettuale antimafia Ieri pomeriggio si è verificato un incendio in zona Timpone Nero a Triscina di Selinunte In prossimità dell'area della circonvallazione Dove proprio ieri sera si stava svolgendo il mercatino settimanale Prezioso l'intervento degli uomini del nucleo operativo emergenze di Castelvetrano Che hanno lavorato per circa due ore per domare le fiamme Che hanno interessato oltre alla vegetazione alcuni rifiuti lasciati sul posto Attività intensa della Capitaneria di Porto di Trapani Che durante lo scorso fine settimana è stata impegnata in interventi di soccorso e assistenza in mare Il fine settimana appena trascorso ha visto impegnato il personale militare della Guardia Costiera di Trapani su più fronti Oltre alle attività giornaliere delle pattuglie via terra E dei mezzi navali impegnati sui litorali e in mare Nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro Sono da segnalare due interventi della motovedetta CP 849 Per operazioni di soccorso ed assistenza in mare Ed un intervento del nucleo sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Trapani Nel pomeriggio del 10 luglio 2016 la motovedetta CP 849 e il dipendente Battello B22 Hanno prestato assistenza ad un'imbarcazione da di Porto in avaria a largo delle mura di Tramontana A seguito di un principio d'incendio a bordo, estinto con le dotazioni di bordo L'unità da di Porto è stata scortata in porto a Trapani fino all'ormeggio Nello stesso pomeriggio, a seguito della segnalazione di una motopesca Relativa alla presenza di un'imbarcazione in difficoltà con migranti a bordo La motovedetta CP 849 ha recuperato i suddetti migranti a circa 40 miglia ad ovest dell'isola di Marettimo 8 adulti maschi di nazionalità tunisina di cui 2 con problemi di carattere sanitario E sempre nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro 2016 la Capitaneria di Porto di Pantelleria Ha intensificato le attività di controllo sia in mare sia a terra Nei giorni scorsi gli uomini della Guardia Costiera hanno sanzionato alcuni diportisti Che con la propria imbarcazione hanno effettuato l'imprudente passaggio sotto l'arco dell'elefante Oltre a rappresentare una violazione della vigente ordinanza balneare La manovra costituisce un grave e pericoloso comportamento Sia per la sicurezza del diportista stesso e anche per la sicurezza dei bagnanti Che dalle 9 alle 19 hanno il diritto di godere degli specchi acquei riservati alla balneazione Alcuni sono stati parzialmente prosciolti Altri come Giulia Adamo e Livio Marrocco dovranno invece giustificare i soldi pubblici spesi per il loro tornaconto Stiamo parlando dei deputati coinvolti nella vicenda spese pazze all'Ars Sentiamo Le bottiglie di vino pregiato, le cravate firmate, le fatture pagate alla propria cognata, i fumetti di Diabolic In 7 sono stati rinviati a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sulle spese pazze dell'Assemblea regionale siciliana L'ipotesi di reato è peculato In 5 invece sono stati scagionati perché il fatto non sussiste Prosciolto con il rito ordinario il deputato regionale Paolo Ruggirello A giudizio invece davanti alla terza sezione del Tribunale di Palermo Giulia Adamo già presidente del gruppo misto e Livio Marrocco Il processo prenderà il via il prossimo 7 novembre Livio Marrocco si vedrà contestare in aula 14.975 euro Di cui 179 furono spesi per l'acquisto di fumetti di Diabolic Ed altre 1.651 euro per acquistare pasta fresca, articoli di profumeria, ottica, lavanderia E per la revisione del proprio motociclo Giulia Adamo invece dovrà rispondere dell'acquisto di una borsa Louis Vuitton e di cravate e fular firmati Per i rinviati a giudizio tuttavia sono scattati proscioglimenti parziali Per i casi in cui non c'era la rendicontazione delle spese sostenute Mentre il processo è stato disposto per i casi in cui le spese erano prive di qualsiasi riscontro e delle pezze d'appoggio Un noto pregiudicato mazzarese Luigi Calafato di 42 anni è stato condannato dal Tribunale di Marsala A 10 anni e 5 mesi di carcere per rapina a mano armata La pena è stata inflitta in continuazione con una precedente condanna già definitiva per un'altra rapina Quest'ultimo processo era relativo al colpo commesso il 28 settembre del 2012 Ai danni del supermercato Despar di Partanna La rapina fu messa a segno da Calafato, reo confesso Insieme a un complice Salvatore Cristiano Erbini Anche egli di Mazzara del Vallo Già condannato con patteggiamento della pena a 8 mesi di reclusione e 600 euro di multa I due malviventi agirono armati di una pistola che poi si è rivelata essere giocattolo Calafato, in passato arrestato per diverse rapine, è stato inoltre condannato a 450 euro di multa E interdizione perpetua dai pubblici uffici La sentenza è stata emessa dal collegio preseduto da Sergio Gulotta E in Tribunale a Marsala torna a dibattersi Il processo sullo smaltimento dei rifiuti è considerato illegale relativamente al lato TP1 Sentiamo Alessandro Iacucci, chimico, è stato ascoltato in Tribunale a Marsala Come consulente tecnico dell'accusa nel processo scaturito dall'indagine di D.A. di Palermo Sul sistema, secondo l'accusa illegale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti gestito dal lato TP1 C'era un accordo tra Sicilfert e Ato, ha dichiarato Iacucci La prima diceva Più rifiuti sporchi mi porti e più mi devi pagare E le cifre pagate dal lato sono poi aumentate Quindi sono stati conferiti più rifiuti sporchi Alla sbarra degli imputati sono l'ex direttore dell'ato TP1 Salvatore Alestra L'ex direttore dell'area sud della Imeri Ambiente Orazio Colimberti Entrambi accusati di corruzione E il capo e impianto del cantiere di Trapani Salvatore Reina Nonché Michele Foderà, amministratore di fatto della Sicilfert di Marsala Pietro Foderà, socio e responsabile dei conferimenti alla Sicilfert E Caterina Foderà, responsabile amministrativo della stessa azienda Che trasforma i rifiuti in fertilizzanti Alestra, secondo l'accusa, non avrebbe denunciato i disservizi di Imeri Mentre agli altri è contestato il conferimento e il traffico illecito Di oltre 47.000 tonnellate di rifiuti Iacucci ha spiegato che nel 2011-2012 si registrò un improvviso aumento di scarti E ciò si deduce dal fatto che la Sicilfert veniva pagata di più dal lato I rifiuti sporchi erano quelli non previsti nel formulario Tra quelli specifici per la trasformazione in concime E ciò in primo luogo rifiuti alimentari Il cosiddetto umido Dopo la deposizione di Iacucci Gli avvocati della Sicilfert, Diego e Massimiliano Tranchida Hanno dichiarato Il consulente del PM ha confermato che i rifiuti scaricati alla Sicilfert Venivano sottoposti a più vagli di ripulimento La sua consulenza comunque ci è apparsa approssimativa Sarà il nostro consulente di parte a ribaltare le conclusioni Il 10 e il 24 ottobre il maresciallo D'Angelo Riferirà sulle indagini poi approdate all'accusa di corruzione Nuova ordinanza sul conferimento dei rifiuti dei comuni del territorio palermitano Alla discarica di Bello Lampo Ma l'emergenza spazzatura in Sicilia continua con il malcontento dei sindaci Abbiamo disposto una nuova ordinanza che prevede che tutti i comuni della provincia di Palermo Conferiscano i rifiuti alla discarica di Bello Lampo L'ordinanza avrà efficacia da venerdì In questi tre giorni collocheremo gli impianti L'ha detto il governatore della Sicilia Rosario Crocetta In conferenza stampa a Palazzo d'Orleans parlando dell'emergenza rifiuti Nella stessa ordinanza è previsto che da sabato Marsala torni a conferire a Lentini Dall'altra parte della Sicilia Invito tutti a una sana collaborazione Ho appreso che la RAP ha cambiato posizione e questa mobilitazione dei sindaci ha contribuito Ha aggiunto La soluzione unica per superare queste criticità è aumentare la differenziata Ha sottolineato Crocetta Secondo il quale la questione dei termovalorizzatori va discussa con i sindaci Ovviamente stiamo valutando altre tecnologie Nel bando che predisporremo ha concluso Non indicheremo solo manifestazioni di interesse sulla termovalorizzazione Ma anche su qualsiasi altra tecnologia alternativa È evidente che al di là della dura frizione tra i comuni e il governo regionale Resta in piedi la drammaticità della situazione rifiuti Con irreparabili danni di immagine per la Sicilia E per quei comuni che hanno avviato una seria politica di sviluppo turistico Lo ha detto il sindaco della città di Mazzara del Vallo e già presidente dell'Ars onorevole Nicola Cristaldi È altrettanto evidente, ha continuato il primo cittadino, l'irresponsabilità del presidente della regione E di quanti lo affiancano in una problematica nella quale presunzione e assenze di idee Stanno portando a condizioni deliranti Piuttosto che lanciare accuse contro chiunque, ha concluso Cristaldi Il presidente della regione si arrenda, consegni le armi E lascia ad un commissario il compito di individuare discariche edone E di avviare seriamente una politica di utilizzo dei rifiuti Come materia prima per la produzione di energia E l'amministrazione comunale di Mazzara chiede la collaborazione dei cittadini Per affrontare al meglio possibile questa emergenza rifiuti In particolare non si deve assolutamente bruciare la spazzatura Non solo inquina l'ambiente ma fa ritardare la raccolta Visto che i rifiuti bruciati possono essere rimossi solo dopo 48 ore Contribuendo così all'aggravamento della situazione E da condannare inoltre il comportamento di quei cittadini Che depositano rifiuti fuori l'orario di conferimento Dando così origine allo spettacolo indecente Di vedere i cassonetti e le aree adiacenti stracolme di rifiuti Soltanto dopo qualche ora dalla pulizia dei siti E intanto alla Camera del Lavoro di Mazzara Si è svolta ieri sera una riunione per parlare appunto Dell'emergenza rifiuti presenti, associazioni e cittadini Sentiamo Ieri sera si è svolta nei locali della Camera del Lavoro di Mazzara del Vallo Una riunione aperta per discutere sul problema dell'emergenza rifiuti La riunione alla quale hanno partecipato non solo diversi rappresentanti Delle varie associazioni mazzaresi ma anche numerosi cittadini È stata ricca di contenuti e di proposte Mazzara non tollera più di vivere con le strade piene di spazzatura Persiste un'incapacità del Governo regionale a garantire una gestione razionale dei rifiuti in Sicilia Il settore ormai è al collasso La continua proroga dello stato di emergenza ha favorito in questi anni la corruzione Gli affidamenti illegittimi, gli sprechi e gli sperperi di risorse pubbliche L'aumento progressivo dei costi scaricati sui contribuenti e sui lavoratori C'è la necessità di accertare tutte le responsabilità contabili e penali E colpire i colpevoli di questo disastro A Mazzara l'emergenza rifiuti è stata anticipata da una sorta di guerra di religione Tra l'amministrazione comunale e il commissario della Belice Ambiente Che ha provocato disagi per la popolazione e sofferenze per tanti lavoratori e per le loro famiglie In questo marasma l'amministrazione comunale di Mazzara ha colpevolmente sottovalutato Scrive il Comitato Cittadino per l'emergenza rifiuti La via d'uscita più importante per risolvere il problema dei rifiuti Ovvero la raccolta differenziata Infatti in questi anni Mazzara ha registrato un regresso in questo percorso virtuoso In violazione delle norme nazionali e delle direttive europee Il Comitato Civico Mazzarese per l'emergenza rifiuti Elaborerà nei prossimi giorni un documento più articolato e accurato Sul problema della gestione dei rifiuti Per contribuire con proposte precise ed uscire dall'emergenza Nel frattempo sollecita con forza l'amministrazione comunale Perché sia immediatamente potenziata la raccolta differenziata Al fine di mettere la città di Mazzara a riparo Dalla criticità derivante dalla difficoltà di conferire i rifiuti indifferenziati nelle discariche Interrogazione con risposta scritta urgente sulle criticità ambientali in via Salvemini La sottoscritta il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Mazzara Nicolo Lagrutta che chiede all'amministrazione comunale di prendere atto della precarietà In cui versa la via Salvemini Di bonificare il sito Di valutare eventualmente di recintare e custodire con la dovuta cura il luogo Adibendolo a punto di raccolta differenziata Gestito con personale adeguatamente formato e istruito per il corretto conferimento E di considerare l'eventualità di rimuovere gli scarrabili E attivare un puntuale e continuo controllo dello stesso Al fine di evitare che incivili proseguano nel deturpare e inquinare la zona Nella seduta del consiglio comunale di Petrosino Preseduta da Francesco Zichittel È stato approvato a maggioranza il bilancio di previsione per l'anno 2016 Dopo la lettura degli atti Il bilancio di previsione è stato approvato con 12 voti favorevoli e uno contrario Presenti in sala consigliare anche il sindaco Gaspar Eggiacalone e tutta la giunta Questa sera a partire dalle ore 21 nel sistema delle piazze di Castelvetrano Arriva in città Libero Cinema in Libera Terra La carovana di cinema itinerante contro le mafie Che ogni estate viaggia per la penisola con un furgone attrezzato con tecnologie digitali L'evento di questa sera si aprirà con lo spettacolo dal vivo di Vito Baroncini Tra cinema, fumetto e lavagna luminosa Dal titolo Mafia liquida Che racconta il quotidiano di piccole e grandi storie di sopraffazione mafiosa Mescolando espressioni e linguaggi d'arte A seguire ci sarà la proiezione del film Lea di Marco Tullio Giordana Che racconta la storia della calabrese Lea Garofalo Dal 13 al 17 luglio Spincia Fest nella bellissima Baia di Cornino a Custonaci Un evento con protagonista indiscussa la Spincia Un dolce tipico ed inimitabile della provincia trapanese Si svolgerà sabato 16 luglio a partire dalle ore 21 all'ex stabilimento Florio L'evento Faviniana Cardioprotetta Un concerto di solidarietà organizzato dai clubs Rotary dell'area Drepanum Distretto 2110 Sicilia-Malta Ad esibirsi sarà la storica corista di Lucio Dalla Iscra In Da Caruso ad Iscra Un viaggio nell'anima E l'aricavato della serata sarà destinato all'acquisto di un numero di defibrillatori automatici Idonio a rendere appunto Faviniana un'isola cardioprotetta dalla Rotary Cresce l'attesa per la seconda edizione del premio 91025 Che sarà consegnato il prossimo 17 luglio a tutte quelle eccellenze Che in qualche modo hanno portato in atto il nome di Marsala Tra i premiati anche lo showman Rosario Fiorello Pubblicato nell'albo pretorio online del portale istituzionale www.mazaradelvallo.tp.it Il bando per l'assegnazione alle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e superiore statale paritaria Di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli Per l'anno scolastico 2015-2016 Da parte dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale Le borse di studio saranno assegnate a favore delle famiglie Che dimostreranno di avere sostenuto spese per l'istruzione dei propri figli E che versano in condizioni di maggiore svantaggio Possono presentare richiesta di partecipazione all'assegnazione delle borse di studio Le famiglie che abbiano sostenuto una spesa per l'istruzione dei propri figli Nel corso del periodo compreso tra settembre 2015 e giugno 2016 Possono inoltre accedervi le famiglie che abbiano un'ISE non superiore a 10.632,94 euro I soggetti interessati dovranno presentare l'apposita domanda Entro e non oltre il termine improrogabile del 30 settembre 2016 Presso l'istituto scolastico frequentato La domanda è il testo integrale del bando Sono consultabili e fruibili nella sezione bandi e avvisi Della sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune Mare e cave, arte e storia, vino e sale, tipicità e natura Questi gli ingredienti della puntata registrata a Marsala Dalla troupe di Sereno Variabile in onda sabato prossimo su Rai 2 Alle ore 13.30 Sarà Osvaldo Bevilacqua, storico conduttore del programma televisivo A guidare gli spettatori lungo i siti culturali e naturalistici del territorio Un resoconto di tre giornate di registrazioni sotto la direzione della regista Manola Romizzi Con le telecamere che hanno effettuato riprese nel centro storico e sulle spiagge Lungo le saline e nell'entroterra Molte le interviste al microfono di Bevilacqua Che come è solito fare con gli espunti e curiosità Per stimolare un viaggio nella città visitata da Sereno Variabile Importante il riconoscimento alla carriera ad Alberto Polizzi Giudice di pace di Partanna Andato in pensione lo scorso mese di dicembre Al giudice Pater Familias Anche per la sua innegabile capacità nel mediare le parti Va così l'ennesima grande dimostrazione di stima Da parte di tutta l'avvocatura belicina Alberto Polizzi ha ricoperto la carica di giudice di pace a Partanna Ininterrottamente dal 1996 al 2015 Svolgendo le proprie funzioni con dedizione, costanza e puntualità E passiamo adesso allo sport Movimenti di mercato in casa Trapani Calcio Perfezionati gli ingaggi dei portieri Simone Faregli e Guido Guerrieri E del centrocampista Luca Crecco I tre calciatori sono già a spiazzo A disposizione di mister Cerse Cosmi E del suo staff per iniziare la preparazione precampionato Faregli ha sottoscritto con il Trapani un contratto biennale Guerrieri e Crecco arrivano entrambi dalla Lazio in prestito temporaneo Ed è guerra a distanza Fra il presidente del Mazzara Calcio Elio Abbagnato E i calciatori che la scorsa stagione hanno indossato la maglia canarina Dopo le dichiarazioni di ieri del patron giallo-blu È prontamente arrivata la dura replica dei calciatori Sentiamo Dopo le dichiarazioni del presidente del Mazzara Calcio Elio Abbagnato Apparse ieri sul giornale di Sicilia E di cui vi abbiamo dato contezza nel corso del notiziario di ieri Nella tarda serata di ieri I calciatori del Mazzara della stagione appena conclusa Vale a dire quella 2015-2016 Hanno replicato attraverso una nota Apprendiamo con enorme sorpresa Dalle pagine del giornale di Sicilia di oggi Che il presidente Abbagnato avrebbe coperto Il pesante passivo relativo alla stagione appena conclusa Si legge nella nota Ebbene questo è falso ed è giunto il momento di fare chiarezza Perché a questo punto la gente non capirebbe La stagione sportiva appena conclusa con il raggiungimento della finale della Coppa Italia a Firenze Ci ha visto protagonisti di un campionato lungo e faticoso Noi tutti abbiamo onorato i nostri impegni con la società Lo abbiamo fatto con professionalità, dedizione e sacrificio Lo abbiamo fatto per la maglia, per i tifosi, per la città tutta Che merita ben altri palcoscenici sportivi Purtroppo i nostri diritti, i nostri rimborsi ad oggi non sono stati regolarizzati E per tanti mesi abbiamo tenuto duro per il bene del Mazzara Nonostante molti di noi vivono di calcio Le tantissime promesse e rassicurazioni del presidente Abbagnato Non hanno avuto ancora nessun riscontro Anzi, riteniamo che a tutt'oggi ci sentiamo presi in giro da un venditore di fumo Che per tutto l'anno ha raccontato un sacco di menzogne Sia a noi che ai tifosi e quindi alla città di Mazzara Alla data odierna, continua la nota Nessuna programmazione all'orizzonte Se non le solite promesse telefoniche Per cui pensiamo che sarà sempre più improbabile recuperare le nostre spettanze Molti di noi addirittura devono recuperare soldi propri anticipati da noi stessi Per affrontare spese mediche conseguenti ad infortuni vari Dopo tanti mesi di sacrifici, di sudare la maglia Pensando soltanto all'obiettivo sportivo Ci sembra giusto comunicare alla città e dai tifosi Che le future scelte di molti di noi sono e saranno condizionate da quanto sopresposto E che la nostra professionalità e pazienza è stata tanta Ma ad oggi abbiamo chiaramente realizzato che qualcuno si è divertito sulle nostre spalle Altro che dichiarare che tutti i debiti sono stati risanati Noi potevamo minacciare di non andare a giocare alla finale di Coppa Italia a Firenze Noi non lo abbiamo fatto per i tifosi e per questa maglia Ma ora basta, conclude la nota È giusto che i tifosi sappiano e possano giudicare le cose per quelle che sono A firmare questa dura nota sono i calciatori Giuseppe Arnone, Vito Bono, Alessandro Cammareri, Antonino Comegna, Antonio Di Simone, Francesco Erbini, Simone Falzone, Francesco Fontana, Andrea Gambino, Cristian Giacalone, Valerio Genesio, Pietro Iacono, Mirco Ilario, Davide Locascio, Cristian Mastornardi, Angelo Rosella ed Ivan Terzo Appresa la notizia non è mancata la replica di Abbagnato È vero, dice il presidente, devo rimborsare i giocatori di due e tre mensilità Ma mi chiedo, questa manifestazione così ostile negli anni passati non l'avevano mai fatta Perché ora, si chiede Abbagnato, c'è qualcosa sotto? E sempre per il calcio ancora una conferma importante in casa rossonera anche per la prossima stagione Infatti la Folgore, se inunte, potrà contare sulle prestazioni del centrocampista classe 1995 Vito Migliore Nel campionato scorso sono state 16 le presenze collezionate dal giocatore Saccense di cui 13 da titolare E con questa notizia, anche per oggi noi siamo arrivati al termine Io vi aspetto domani alle 14 per un'altra edizione del Tg8 Informazione Buona serata